Di solito quando inizio le recensioni in realtà parto con un po' di cenni storici, con l'analisi esterna del prodotto, ma vorrei rimandare questa parte alla fine. L'unica cosa che vi dico è che sto girando qui con luce ambientale tra l'altro, quindi potrebbe variare un po' l'illuminazione della scena, scusatemi se succederà, ma sto usando praticamente la finestra qui al mio fianco, perché secondo me è l'ambiente migliore per capire come si presenta questo computer nell'ambiente giusto per lui. Ma a parte questo, vi dicevo, vorrei iniziare dal discorso più specifico sulle prestazioni di questa macchina, ma non dai numeri, bensì da un altro aspetto, cioè il fatto che questo è il primo Mac nella transizione ad Apple Silicon che Apple ha sostituito con M1, anche se il precedente aveva delle GPU dedicate, delle schede grafiche dedicate. Non è successo così fino ad ora perché il MacBook Air, il MacBook Pro, due porte, ma anche il quattro porte in realtà, e il Mac Mini che sono stati sostituiti, a parte l'iPad Pro, ma quello non è un computer che fa parte della famiglia dei tablet, erano tutti quanti dei computer che usavano solo la scheda grafica integrata all'interno del processore. L'iMac da 21,5 pollici, che è stato sostituito dal nuovo 24, no, aveva delle GPU dedicate. Aveva la Radeon Pro 555X, la 560X e poi in opzione, mi pare solo sul modello top, c'era anche la possibilità di prendere la Vega 20. Ora, perché è importante questa cosa? Perché se sul fronte del processore, qui parliamo di un chip che ci dà prestazioni superiori al più potente dei processori che si potevano prima mettere nell'iMac da 21,5 pollici, in realtà più potente anche di molti iMac da 27 pollici attuali, sul fronte della scheda grafica invece non è così. Infatti sì, è superiore rispetto alla base di prima, cioè la 555X, se la gioca più o meno ad armi pari con la 560X, seppure lì dipende se è da 7 a 8 core, perché come sapete nel modello base ce n'è uno in meno e c'è una piccola variazione da quel punto di vista, e poi c'era però questa Vega 20 che sì, era un'opzione, ma era più potente. E di un bel po', devo anche dire. Ora, è vero che il 21,5 pollici, insomma, difficilmente lo si andava a prendere con questa configurazione così maxata, però di base, secondo me, è una cosa interessante, perché è la prima volta che succede questa cosa, in questa transizione, cioè la prima volta che il computer va a perdere qualcosa rispetto al precedente, anche se in una sola e specifica configurazione. Spero che non succeda più, ma potrebbe essere anche solo una condizione temporanea, perché ad oggi, sapete, Apple ha solo questo sistema, una chip che sta mettendo praticamente ovunque, ma sappiamo anche che entro la fine dell'anno, quasi sicuramente, uscirà un nuovo sistema, una chip più potente, a prescindere dal fatto che sia la grafica interna o esterna, perché quello conta poco, qui parliamo di 7 a 8 core, lì si dice almeno 1632, poi potrebbero arrivare delle versioni con ancora più core sul fronte della GPU, quindi si andranno a superare anche molte schede grafiche che prima erano esterne, dedicate, insomma, quindi non fate il confronto interno-esterno, che non c'entra sostanzialmente nulla. Però, dicevo, qui abbiamo questa situazione che potrebbe essere transitoria, perché con il futuro, diciamo, M1X, Apple non solo potrebbe fare una nuova variante del Mac Mini, i MacBook Pro più potenti e anche un iMac più grande, ma potenzialmente creare anche una versione più carrozzata dell'attuale iMac da 24 pollici. È plausibile, insomma, quindi potrebbe essere una situazione temporanea, ma analizziamo quello che abbiamo oggi. Questa macchina, secondo me, rispetto al target che aveva già prima, cioè quello dell'iMac da 21,5 pollici, è una macchina comunque abbondante per la maggior parte degli utilizzi. Se fate, diciamo, appunto, quell'uso standard, che può essere ufficio, multimedia, l'utilizzo, insomma, del browser, videoconferenze, quello che volete, è una macchina che va ovviamente al di là di quelle che possono essere le vostre necessità e che potrà avere anche un'ottima longevità. Se si tratta, invece, di utilizzo, per esempio, in ambito professionale con l'audio, che sia Logic, che sia Adobe Audition, che sia, non so, Ableton, che sia ancora Reaper, con plug-in, diverse tracce, eccetera, va assolutamente benissimo. E tra l'altro anche con la versione da 8 GB, con quella da serie, ci sono delle piccole migliorie per carità, ma non così importanti anche per un uso professionale. Nel settore fotografico, qualsiasi sia il software che voi utilizzate, io ho provato Capture One, ho provato Lightroom, va benissimo. Anche lì, con 8 GB, va tranquillamente. Con 16, però, con questi software, soprattutto con Lightroom, nell'utilizzo in batch, quindi con più file contemporaneamente, anche in Photoshop questo, se utilizzate 16 GB, andate un po' più veloce. Sulla singola immagine, eccetera, mi sembra che cambi sostanzialmente nulla. Sul discorso del video, secondo me vale quanto ho detto in altre situazioni, cioè, se voi utilizzate iMovie, se voi utilizzate Final Cut, questa macchina va ampiamente bene per quasi tutti gli utilizzi. Io sono riuscito a metterla in crisi, per carità, perché con più tracce delle clip, insomma, della Canon R6 a massima qualità, con color correction e con della titolazione in 3D sopra, se si disattiva il pre-render e si utilizza la massima qualità dell'anteprima, va a scatti, sempre. Però, se lo utilizzate con le configurazioni base, in realtà, quegli scatti li vedete un istante e poi spariscono, perché fa il pre-render. Final Cut è molto furbo e su queste macchine è tagliato in maniera veramente perfetta, a misura, per cui, veramente, anche per utilizzi professionali, con 8 GB andate assolutamente bene. Con 16 avete qualche piccolo miglioramento, ma non aspettatevi grandi rivoluzioni. Giusto in esportazione cambia qualcosa, ma poca roba, insomma. Sulla timeline, io, qui ho provato solo il modello da 8, ma ho provato il MacBook Pro con lo stesso chip da 16 GB, o il MacBook Air con lo stesso chip da 16 GB, e cambia veramente poco, onestamente. Ancora, sul discorso, per esempio, dello sviluppo, lo sviluppo è un settore enorme, lo sviluppo software, perché potete fare un software con una form che vi stampa due numeri, o la ricetta per fare la pizza, oppure potete fare un gioco in 3D. Allora, lì, chiaramente, dipende dalle piattaforme che si utilizzano, dall'impegno, insomma, anche sul fronte 3D, perché, come detto, sul fronte grafico se la cava bene, ma non è il massimo che si possa, insomma, ottenere, sicuramente. Quindi, ritorniamo ancora lì sul fronte del limite potenziale della grafica. E c'è anche sul discorso gaming. Se utilizzate gaming con Apple Arcade, tutti i titoli vanno assolutamente bene, quindi, a quelli che scaricate, insomma, dall'App Store, soprattutto se fanno parte, appunto, del pacchetto Apple Arcade, vanno benissimo anche, ovviamente, i giochi che ho fatto tramite i servizi di streaming, no, tipo un Google Stadia, per dire, perché lì la grafica non fa praticamente nulla, ma se utilizzate, invece, qualcosa di più sul fronte grafico, considerate che il vecchio modello con la Vega 20 potenzialmente era ancora migliore, non soltanto perché la Vega 20 è sulla carta superiore, ma anche perché con Intel, e quindi i processori x86-64, avete la possibilità di eseguire Windows in Bootcamp, che di per sé, per chi gioca con certi titoli, è di solito un vantaggio, per Steam, che ha molti più titoli, per il fatto che si possono utilizzare quelli, anche, che sono per quella piattaforma, senza dover passare dall'emulazione, insomma, quindi, chiaramente, quello non è questo, scusate, un computer adatto per quel tipo di utilizzi, in maniera ottimale. Campi di applicazione ce ne sono infiniti, ovviamente non li posso valutare tutti, vi posso dire che ho fatto qualche test per il discorso 3D, ma vale lo stesso discorso, quello che si basa sul processore va abbastanza bene, questa macchina su quel fronte non ha assolutamente problemi, bisogna andare dall'iMac top in su, per vedere qualcosa in più, per cui, insomma, diciamo che cadete in piedi, per tutto quello che si posa sulla grafica, chiaramente c'è il margine di miglioramento, e che sarà un miglioramento in arrivo, probabilmente, entro la fine del 2021, quindi quello è un altro aspetto, che, secondo me, non è esattamente targettizzato, ideale per questa macchina. Ma andiamo a parlare anche di un'altra cosa interessante, allora, voi sapete, perché ne ho anche parlato in un precedente video, che nel modello base, oltre al fatto di avere un core in menu sulla GPU, Apple ha utilizzato una scheda logica leggermente diversa, dove c'è solo una ventola, e non c'è l'heat pipe che collega la ventola sul SOC, quindi, in realtà, la dissipazione è inferiore. Io ho provato solo il modello intermedio che ha la doppia ventola, e su questo vi posso dire che, in termini di resistenza termica e di efficienza, la dissipazione va molto bene. Infatti, è attualmente il migliore che ho potuto provare con M1, e per darvi un'idea, se voi prendete l'IMEC 27 pollici del 2020, il top di gamma che ho io, quindi il massimo sia di processore che di scheda grafica, ovviamente avete numeri superiori, però nel carico massimo, quindi sotto stress, sia con la CPU e poi anche con un test che mette sotto stress e contemporaneamente il processore e la scheda grafica, questo IMEC da 24 pollici perde di meno rispetto all'IMEC da 27 pollici super carrozzato, quindi riesce a mantenere molto alte le performance. Ho registrato dei picchi di temperatura a 83 gradi circa, ma per pochissimi istanti, perché comunque poi con le ventole che salgono a massimo regime, che è di circa 7000 RPM, scende subito sotto gli 80, se intorno ai 75 gradi, insomma, quando è sotto massimo carico, ripeto, sia per CPU che GPU, e insomma riesce a darci ancora delle ottime prestazioni. Sull'esterno, nella zona interessata, dove c'è il sistema una chip, il massimo che si arriva è 38 gradi, quindi insomma è una macchina che rimane sempre fresca. Le ventole, quando si sale un po' già intorno ai 60 gradi, mi pare, iniziano ad avvertirsi, però non sono fastidiosi, non è un rumore fastidioso. Considerate che sul modello base, ovviamente la ventola deve partire prima e deve salire prima con i giri, perché ovviamente ha una minore efficacia, sia perché è da sola, sia perché non c'è il lead pipe, quindi su quel modello aspettatevi un po' più di rumorosità e anche un minore mantenimento delle performance sottocarico. Però diciamo che per un utilizzo così medio, senza andare veramente a stressare continuamente la macchina, quasi non noterete delle differenze. Infatti nel video che io ho girato per dire come non mi è piaciuta questa recensione di Apple su questo computer, il mio dissenso era per Apple, non per il computer che insomma, come sapete io ho anche un MacBook Air che è completamente senza ventola e l'ho preferito proprio perché è senza ventola, sapendo che perde qualcosa in prestazioni. Però è completamente silenzioso e questa cosa mi piace moltissimo. Quindi abbiamo analizzato un pochino, spero decentemente, il discorso delle performance, sarebbe un discorso infinito. Vi dico che nel link che trovate in descrizione alla recensione completa sul sito vedrete un po' tutti i vari grafici, tutti i vari approfondimenti, ma tornerei a parlare del computer in sé dal punto di vista del design. Mi dispiace che qui non ho gli altri Mac che invece ho giù nello studio dove avrei potuto farvi vedere la differenza tra il G3, il G4 e il G5, anche se in realtà non ho un G5 o uno dei primi con Intel che però era lo stesso. E considerate che in quel periodo quando c'è stata anche la transizione dagli schermi CRT a tubo catodico, insomma a quelli piatti, Apple ha sperimentato molto di più sul fronte del design. Poi quando siamo arrivati a quello in metallo successivo si è un po' standardizzata la cosa, insomma negli anni successivi non è cambiato praticamente nulla. Però per tanti anni, diciamo, i Mac hanno avuto per dire la cornice bianca, che poi attenzione non è bianca, è un grigio chiaro che è fatto apposta, lo potete andare alle mie spalle, per sparire praticamente in un ambiente normale, insomma, di utilizzo. Questa è una cosa interessante perché molti hanno l'impressione che quelle cornici spicchino, che si vedono molto. In realtà si vedono di meno delle nere, a meno che insomma non abbiate uno sfondo del computer praticamente molto oscuro, ecco. Quindi è un aspetto interessante questo, cioè questo è un computer che in effetti in un ambiente living, sta molto meglio del precedente perché effettivamente queste cornici finiscono per sparire completamente. Si nota di più quando lo schermo è spento, quando questo è acceso, soprattutto se utilizzate l'interfaccia chiara, che infatti ho preferito su questo computer. L'interfaccia scura, per la prima volta in tanti anni, ho trovato un Mac su cui non sta bene, secondo me, preferisco quella chiara. Sul discorso invece dei colori, ovviamente molto soggettivo, a me sono piaciuti un po' tutti, devo dire, poi però nella scelta avrei difficoltà, infatti ho preso quello blu che mi sembra l'unico, comunque uno dei pochi, tra i colorati, che rimane abbastanza tranquillo, insomma non spicca moltissimo. Poi c'è il discorso del fatto che nella parte frontale abbiano deciso di mantenere questa striscia al di sotto, peraltro senza il logo Apple. Io ho già detto qual è secondo me il motivo per cui Apple ha fatto questa scelta. Ovviamente non posso saperlo con certezza, e sono valide, credo, tutte le teorie, c'è chi ha detto che dipende da una questione tecnica di organizzazione dei componenti interni, che dipende dal fatto che, non so, lo vogliano vedere in più produzioni video senza desideri appiccicati sopra, anche se in realtà ormai si fa un attimo in post-produzione. Però ecco, il punto è che secondo me in realtà Apple poteva, con il passaggio ad Apple Silicon, con il fatto che ormai la parte hardware è veramente microscopica, a metterla un po' dovunque, anche nella base volendo. Se non lo ha fatto, è perché in realtà questo design ormai è iconico. E proprio questo motivo secondo me li ha portati a questa decisione forte, se vogliamo, di togliere completamente il logo. Perché, pensateci un attimo, l'iMac si può disegnare veramente con due righe, perché basta creare quello spazio sotto e si capisce che non è un monitor, ma si capisce che non è uno dei tanti possibili all-in-one. Quindi Apple ha ormai deciso e si è riuscita ad imporre con questo design che è suo e il fatto di aver tolto il logo secondo me è stata proprio una presa di posizione. Ciò non toglie che a me non piaccia. Insomma, io lo preferivo con un piccolo loghetto sul frontale. Ce n'è uno bello grande sul retro e il lato B secondo me è la parte più riuscita di questo computer. Infatti, se si utilizza in una zona centrale, diciamo, in una casa e si vede il retro anche in una zona con un ambiente di ricevimento e con una scrivania anche che diciamo prevede la possibilità che arrivi del pubblico che lo guardi di lato o dietro insomma è sicuramente bellissimo. Tra le altre cose ha questo cavo di alimentazione fatto in tinta cavo anche molto curato nel rivestimento esterno che è sicuramente se è solo lui attenzione se è solo lui non dico che aggiunge qualcosa ma insomma veramente non si nota e sicuramente non è come un cavo tradizionale però andiamo anche a pensare cosa ha comportato per Apple questo tipo di design perché il computer è sottilissimo è una cosa che prima era impensabile con l'architettura di Intel ma questa cosa ha comportato anche il fatto di portare all'esterno l'alimentatore sì c'è la possibilità di mettere lì la porta Ethernet in opzione sul modello base per 26 euro se non erro di serie sui modelli superiori che è una cosa carina perché poi la Ethernet viene veicolata con il cavo di alimentazione quindi sta all'interno per cui anche lì se dovete mettere una posizione stabile e avere la rete comunque sempre funzionante in effetti vedrete l'unico cavo e questa è una piccola chicca se vogliamo però questa cosa è anche un po' spiacevole perché avete questo brick che dovete posizionare da qualche parte e se lo buttate per terra è anche peggio che avere il computer più spesso insomma e poi anche il fatto che così sottile non è stato possibile inserire alcuni tipi di porte per esempio sul retro abbiamo solo le porte in formato usbc e anche il jack audio non sta più dietro ma sta qui di lato ora in realtà questa posizione per il jack audio se voi la utilizzate per lo più per le cuffie secondo me è anche meglio perché in effetti lo trovate subito è veramente a portata di mano e non dovete cercare dietro alla cieca e poi diciamo quando mettete le cuffie le usate poi le togliete quindi ci sta che sia qualcosa che rimane visivo ma temporaneamente se usate l'uscita audio per collegare delle casse che siano amplificate ma magari non sono casse usb o non avete una scheda audio su cui collegarle quindi insomma c'è un cavo sempre lì visibile è brutto potete utilizzare un cavo ad L ma insomma sempre un po' così tra le altre cose c'è il discorso proprio che come vi dicevo mancano tutta una serie di porte e questo può essere molto negativo a secondo dell'utilizzo intendiamoci per l'uso tipico di questa macchina o anzi per l'uso tipico che aveva precedentemente l'iMac da 21,5 pollici non è che cambi tanto insomma io conosco molte persone che come sul portatile alla fine si collegano l'alimentazione e ogni tanto una chiavetta o un disco insomma ma non una roba così frequente però va detto che effettivamente per molte cose sarà necessario per dire l'adattatore come sui portatili e soprattutto c'è il discorso che questa pulizia del design e che potete avere anche sulla scrivania per l'assenza di cavi la potete rovinare in un attimo collegando un hub che rimane gli penzoloni però se già avete uno di quelli con un cavo più lungo e quindi potete posizionarlo in maniera gradevole o utilizzate un dock che vi dà anche la possibilità da un USB di avere molte più porte di quelle che vi può dare un hub ovviamente potete rendere la cosa un po' più graziosa però poi il dock sapete ha dei costi abbastanza importanti rispetto al semplice hub che non richiede alimentazione eccetera eccetera e quindi è qualcosa che dovete considerare insomma sul fronte connessioni qui siamo comunque abbastanza sul minimale insomma quindi va bene per chi non va tutto il giorno ad utilizzare delle cose esterne se dovete creare una postazione con tante cose connesse alla fine l'unica soluzione sarà quella di avere un dock e gestirlo con i cavi in modo tale da non avere troppe cose un po' in mezzo alle scatole il Mac di per sé come linea onestamente bello insomma credo che sia molto riuscito poi sì in realtà questa è una cosa soggettiva ma a prescindere da tutto c'è un aspetto che Apple secondo me ha fatto veramente con i piedi e dell'ergonomia perché da sempre questi iMac anzi in realtà il G4 aveva quel bellissimo schermo orientabile quindi lo metterai praticamente dove volevi ma dal G5 poi abbiamo avuto sempre questi schermi con il piede fisso in termini di altezza a me questa cosa non piace è il motivo per cui al di sotto del mio iMac da 24 pollici vedete un libro un libro che mi dà quell'altezza necessaria affinché io possa guardare lo schermo senza stare così insomma che è una cosa molto molto spiacevole Apple purtroppo ha questa idea di fare dei dispositivi che siano preconfezionati e già nel modo giusto per andare bene a tutti come fa un po' con gli auricolari Airpods quelli senza commino intendo gli Airpods Pro perché lì hanno realizzato questo formato dell'auricolare che hanno studiato su non so quanti milioni di varianti di orecchie per andare bene più o meno a tutti il problema è quel più o meno perché poi c'è qualcuno che ha l'orecchio un po' più grande e gli cascano o chi ha le orecchie un po' più piccole e non gli entrano affatto qui vale lo stesso discorso onestamente secondo me per chi ha un'altezza di circa un metro e ottanta come me e anche superiore è scomodo perché sì potete abbassare la seduta se avete una sedia appunto che si possa abbassare ma poi arrivate con la parte qui dell'avambraccio che poggia all'angolo della scrivania insomma dovete stare appesi per usare la tastiera e il mouse quindi c'è comunque uno sbilanciamento se vogliamo dovuto al fatto che non si possa regolare l'altezza con lo stand c'è la cerniera che vi consente di inclinarlo un po' così e così insomma ma avere la possibilità di sollevarlo secondo me sarebbe stata sicuramente qualcosa di più utile sul fronte ergonomico andiamo a parlare anche degli accessori allora voi sapete che Apple ha realizzato non solo i cavi anche quello lightning a usb per gli accessori per ricaricarli ma ha realizzato anche gli accessori in tinta con il vostro iMac bella cosa devo dire a me sono piaciuti alla fine sono gli stessi di prima però anche qui ho delle riserve per dirvi sulla tastiera hanno un po' stondato gli angoli ci può stare non cambia sostanzialmente nulla ma hanno deciso di utilizzare il vecchio layout in cui metto da questa parte che è meglio i tasti freccia laterale sono alti come tutti gli altri tasti e non piccoli come i tasti freccia sopra e sotto a me non piace questa cosa ma soprattutto negli ultimi portatili avevano risolto se vogliamo questo problema con la forma T capovolta perché qui non fare la stessa cosa comunque nella tastiera del modello diciamo dal medio gamma in su o in opzione sul base con 50 euro aggiuntive potete avere anche il Magic che è il Magic il Touch ID ora il Touch ID sulla tastiera funziona in realtà anche con tutti gli altri computer con M1 però attualmente non è in vendita separatamente solo con l'iMac da 24 pollici arriverà sicuramente in vendita anche a parte ad ogni modo è una cosa molto molto bella è velocissimo e vi dà anche la possibilità di effettuare il login con diversi account perché lui riconosce chi ha messo il dito e fa praticamente il passaggio da un account molto molto carino come idea insomma funziona molto bene per quanto riguarda il trackpad nulla da dire per quanto riguarda il mouse nulla da dire anzi per il mouse una cosa ve la devo dire insomma perché voglio dire l'hanno fatto colorato quindi l'hanno dovuto un pochino rivedere almeno dal punto di vista della catena produttiva potevano pensare una soluzione per spostare questo alimentazione questo porta lightning sul basso perché come sapete nel momento in cui lo dovete ricaricare deve stare testa in giù quindi non lo potete usare sì è vero che si ricarica in poco tempo però insomma mi sembra una caruta di stile perlomeno parliamo un po' dello schermo è 23,5 pollici la sua diagonale ed è uno schermo molto bello allora è un 4,5k quindi è un po' di più rispetto al precedente 4k questo perché mantiene la stessa densità di pixel diciamo sia rispetto al 27 pollici 5k che rispetto al 21,5 pollici 4k cosa c'è di interessante che è un po' più grande non di pochissimo perché la diagonale cresce di circa 5 cm si vede insomma è percepibile rispetto al 21,5 pollici e poi diciamo che già con la risoluzione di default che equivale a una scrivania comunque abbastanza più ampia rispetto a quella full hd abbiamo la possibilità di avere un ambiente molto comodo per lavorare anche con tante finestre attive ma soprattutto ha la risoluzione più spazio che va ad equiparare praticamente quella base del 27 pollici cioè la scrivania diciamo equivale a 2560 per 1440 che sì qui si vedrà un pochino più piccolo ma se avvicinate un po' lo schermo praticamente riuscite a lavorare con lo stesso ambiente sostanzialmente di un iMac da 27 pollici e questa è una grande cosa all'atto pratico perché potete effettivamente equiparare quel livello di complessità se vogliamo delle interfacce anche con dei software abbastanza impegnativi quindi questo schermo insomma se fate un attimo di attenzione a come lo posizionate rispetto alle sorgenti di luce e quindi evitate i riflessi proprio evidenti diretti sul display è uno schermo molto valido cioè faticate a trovare un pannello a parte di 4,5k anche solo in 4k che sia così buono come qualità insomma non soltanto per i numeri perché comunque sapete ha compatibilità per lo spazio colore p3 non all'HDR per carità però ha un'ottima luminosità di 500 nits insomma è uno schermo che si vede molto molto bene e poi con questo comunque superficie lucida ha un ottimo contrasto ha dei neri che comunque rimangono abbastanza abbastanza profondi insomma e dei colori che sono abbastanza affidabili per l'uso web chiaramente per chi utilizza il computer per ambiti professionali che riguardano stampa tipografia eccetera sono altre le caratteristiche che si cercano in un monitor ma poi non rende bene per l'uso multimediale questo è un computer che va benissimo con questo schermo per l'uso multimediale e anche per tutte quelle produzioni che comunque abbiano come finalità il web perché il web o comunque internet perché lo schermo ha effettivamente lo spazio colore insomma più utilizzato in questi ambiti anche ovviamente negli smartphone e nei tablet la camera frontale è in full HD e mi sembra bella incisiva anche dal punto di vista insomma dei dettagli che riesce a catturare ma soprattutto grazie all'ISP che è incluso nell'Apple M1 è trattata molto meglio dal punto di vista software e quindi noterete che il bilanciamento del bianco è stabile l'esposizione non è ballerina l'è calcolata molto bene anche rispetto al viso di chi sta parlando infatti ha bruciato un po' da questa parte ma ha fatto bene perché ovviamente doveva illuminare bene il volto e poi anche sul fronte dell'audio il microfono anzi l'array insomma di microfoni che poi servono anche per ridurre il rumore ambientale se la cava abbastanza bene considerate che in questa stanza c'è un po' di eco perché l'ambiente è abbastanza ampio insomma e non è trattata acusticamente per cui si nota un po' che rimbomba però di base viene sicuramente registrato in maniera più che adeguata se l'utilizzo insomma è quello per fare una call insomma una videoconferenza già questo tipo di qualità sul fronte del microfono e dell'immagine va assolutamente più che bene poi se siamo degli streamer professionisti ovviamente metteremo una nostra fotocamera metteremo anche un microfono dedicato per avere una qualità ottimale però di base insomma se la capa assolutamente bene le casse suonano anche abbastanza bene ovviamente per quello che sono cioè per quanto è sottile questo computer non ti aspetti il volume che hanno perché Apple comunque ha sfruttato anche lo spazio interno dietro lo schermo come cassa di risonanza però ovviamente è un audio non da casse esterne dedicate di buona qualità quindi è un po' medioso ad alto volume impasta un po' tutto quanto quindi può distorcere un po' insomma un computer che offre delle ottime qualità proprio nel momento in cui si considera quello che è la sua offerta globale lo prendiamo lo attacchiamo un solo cavo peraltro magnetico molto carino nell'attacco e in un attimo praticamente abbiamo un computer che è completo in tutte le sue parti più abbiamo la necessità di ampliare la nostra postazione di lavoro con periferiche esterne e più perde senso questo pacchetto insomma perché se iniziamo a dire per la fotocamera utilizzo un prodotto esterno delicato per l'audio mi attacco un microfono per le casse ho una scheda audio con quelle esterne per il monitor allora ne trovo uno che secondo me è meglio più grande e non ha questa dimensione anche se perdo qualcosa in risoluzione in qualità complessiva o preferisco un monitor più grande e di qualità superiore per determinati usi come vi dicevo prima magari la stampa eccetera eccetera insomma ci sono tante situazioni in cui se volete variare qualcosa all'interno dell'offerta dell'iMac che di per sé ha il vantaggio nel fatto di essere un all-in-one ovviamente perde senso questo computer e acquista senso magari un Mac Mini che voi comprate con una differenza diciamo di 900 euro sul listino per il modello che va a parificare le caratteristiche quindi con 8 core sulla GPU perché qui nel modello base avete il discorso dei 7 core seppure secondo me non sia un ragionamento tanto importante insomma vi ho detto che non cambia tantissimo per cui al limite potete anche considerare parità di modelli base e lì la differenza è di 680 euro e allora con quei 680 euro in realtà se vi servono queste periferiche è meglio averle quelle dell'iMac perché effettivamente non le pagate tanto se considerate la qualità di questo monitor se considerate il vantaggio di avere tutto insieme appunto le case microfono le periferiche tipo mouse tastiere eccetera eccetera quindi in tutto quel pacchetto come vi dicevo il vantaggio sta all'iMac ma se volete utilizzare le vostre periferiche o utilizzare periferiche migliori o soprattutto volete avere la possibilità di avere un computer che duri nel tempo in cui poi le periferiche potete cambiarle adattarle alle evoluzioni di quelle che sono le vostre necessità il Mac Mini rimane un computer secondo me con appunto un vantaggio dal punto di vista operativo se invece avete bisogno di maggiori prestazioni non tanto sul processore che come vi dicevo va già molto bene ma sul fronte grafico allora come me dovrete aspettare o una nuova versione di questo computer o una versione rinnovata dell'attuale iMac da 27 pollici che potrebbe essere un 30 pollici magari da 5,5k come vi ho detto in un precedente video bene questo era grossomodo quello che vi dovevo dire su questo computer che mi è piaciuto mi è piaciuto molto lo manterrei molto volentieri in questa posizione se non fosse questa è la scrivania di mia moglie ha il suo portatile ogni tanto l'autorizza mio figlio e ha il suo portatile quindi non gli interessa avere questo computer che sia il computer in più per tutti e due dove gestire due volte i file eccetera eccetera per cui se non fosse per quello io lo terrei qui perché è un computer che fa la sua bellissima figura funziona assolutamente bene e vi consente di fare un po' tutto quello che serve per l'attività tipica e anche un po' professionale in alcuni ambiti fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti spero che la recensione sia stata di vostro gradimento e insomma le solite cose come sapete sono graditi like condivisioni iscrizioni al canale eccetera 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 ci rivediamo la prossima volta ciao 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 ciao